La presenza del stress ambientale sul corpo e sul benessere delle nostre persone lo faremo in maniera molto approfondita con una serie di percorsi inghirizzati a cui sono presenti moltissimi docenti di altissimo livello e spero di essere all'altezza di questi docenti anch'io dove tratterò sostanzialmente tutti gli aspetti del sistema psico-neuroendocrino immunometabolico, quel network che va a governare un po' tutto il benessere del nostro corpo e che deve essere estremamente pulito e efficiente se vogliamo che il tutto funzioni nella maniera più giusta. Vi aspetto!